... Rispetto all'anno scorso c'è molta più gente, l'anno scorso la piazza era completamente deserta, i negozi erano tutti chiusi, era qualcosa di veramente triste ma anche di spettrale, spettrale era la parola giusta, quest'anno c'è già vita, quest'anno c'è già molta più vita e speriamo che continui così. E' bello di venire a questa volta, perché è il carnaval in febrile e il weather è bello. È il primo giorno che vediamo tutta questa gente, noi per due anni poi non siamo neanche stati, come si vuol dire, come categoria riconosciuta come ambulanti, noi per due anni non abbiamo preso una lira.